Non possiamo dire parliamo della guerra in Siria perché più che una guerra è stata un'invasione della Turchia verso il nord della Siria, un'invasione in Siria. Diciamo che la Turchia ha invaso un altro Stato, la Turchia che ha chiesto di entrare nell'Unione Europea, la Turchia che fa parte dell'alleanza atlantica, l'alleanza militare. Attenzione, hanno fatto entrare di tutto nell'alleanza atlantica e vogliono far entrare di tutto nell'Unione Europea e questi sono i risultati. Non tutti hanno le credenziali morali, etiche e i valori per far parte dell'Unione Europea. Ve lo volete mettere in quella zucca vuota che avete in Europa? No, eh? E poi prima di fare entrare nella Nato la Turchia, ma non potevate pensarci prima, ma non avete visto di che pasta sono fatti, non lo avete capito. Anche lì avete delle teste vuote alla Nato, teste vuote. E così gli Stati Uniti se ne vanno, lasciano soli i curdi e adesso chi prende il posto degli Stati Uniti come intermediatore, mediatore, è la Russia di Putin. Le forze armate di Mosca entrano in Siria. Una divisione corazzata si è schierata sul confine con la Turchia e anche una divisione di terra. Ricordo una divisione corazzata, sono circa 250 carri armati. Una divisione di terra, sono circa 11.000-15.000 soldati. Le forze armate russe prendono posizione nelle basi abbandonate dalla ritirata degli Stati Uniti per ordine di Donald Trump, ma anche britannici e francesi. Donald Trump ha detto basta, guerre stupide, che adesso lì ci vada a fare il pacere o il mediatore chiunque, anche Napoleone Bonaparte. Beh, l'ironia di Donald Trump è assolutamente fuori luogo con tutte le morti che stanno avvenendo, tra i civili bombardamenti, centinaia di migliaia di persone costrette a lasciare le loro case per non avere in mano più nulla. E lui ride, sarcastico, che ci vada anche Napoleone Bonaparte. Che bel presidente che hanno questi americani, veramente. Poi se si dice che il presidente, la politica è lo specchio del paese, siamo a posto. Intanto l'inviato speciale di Mosca, di Putin, Alexander Lavrentiev, fa sapere all'agenzia di stampa Ria Novosti, che il dialogo tra Turchia e Siria è in corso e aggiunge, penso che non solo lo scontro turco-siriano non sia nell'interesse di nessuno, ma anche che sarebbe inaccettabile. Sarà chiaro, non lasceremo che le cose arrivino a questo punto, anche perché in soccorso erano arrivate anche quello che resta delle forze armate siriane per schierarsi sul confine turco, però voi sapete che la battaglia è impari perché la Turchia ha un esercito enorme, non è dei più avanzati, non è dei più moderni, è diciamo enorme di numero, ma voi sapete che attualmente quando si parla di forze armate non è il numero, ma è il tipo di armamento. Attenzione, l'esercito di Saddam Hussein era la quarta forza armata al mondo per numero di mezzi, ma è stato distrutto in poche decine di ore, perché erano mezzi obsoleti. Non serve avere 3.000 carri armati obsoleti che non servono più a niente, basta un aereo da combattimento per far fuori tutti questi carri armati. Quindi attenzione, le forze armate turche numericamente sono uno degli eserciti più numerosi del mondo, ma questo non comporta nulla. Ricordiamoci che Stati Uniti e Russia detengono il maggior numero di armi balistiche ad armamento nucleare montati su missili balistici intercontinentali. Si parla di circa 15-16.000 missili con armamento atomico da parte degli Stati Uniti e la stessa numero, circa 15-16.000 missili con armamento atomico della Russia. Quindi Russia e Stati Uniti hanno la leadership e la supremazia militare assoluta. Le forze armate degli Stati Uniti hanno sempre comunicato al loro Presidente, non si preoccupi, disponiamo di un armamento e di un arsenale illimitato. E così è. Quindi la Russia adesso si metterà come interposizione tra i due schieramenti e nessuno può, se non gli Stati Uniti, confrontarsi con le armi, con la Russia. Nessuno. Quindi se la Russia si mette in mezzo non c'è trippa per gatti. Ieri i ministri degli esteri dell'Unione europea hanno deciso di bloccare le forniture di armi alla Turchia, ma secondo modi e tempi stabiliti paese per paese, cioè un po' ognuno faccia quello che vuole. Noi condanniamo ma fate quello che volete. Se volete venderle le vendete, se non le volete vendere non le vendete, se volete bloccare i futuri contratti bloccateli, mentre quelli in essere se volete continuare a vendergli le armi perché c'è un contratto in essere. E il contratto in essere cosa comporta? Soldi, business, economia. Quindi l'economia passa sopra le morti. Se c'è qualche contratto in essere e volete rispettarlo, è un contratto in essere, che facciamo? Gli roviniamo la vendita all'azienda X o Y? E quindi ogni paese faccia quello che vuole. E l'Italia, come Luigi Di Maio, dice stop alle vendite. Stop alle vendite anche delle commesse in essere, cioè le vendite in corso. Ma di fatto in questo momento che vi sto parlando non c'è nessuno stop italiano, perché non c'è un decreto di urgenza per farlo. Perché Conte non fa un decreto d'urgenza? Cosa c'è dietro? A ogni azione politica le azioni politiche non sono casuali, c'è sempre un motivo. Perché Conte non agisce di immediato come hanno fatto gli altri paesi europei, però i titoli, come il titolo del Corriere della Sera, sottolineato. L'Italia ferma la vendita di armi alla Turchia. No, l'Italia ha detto la fermerò, ma non lo ha ancora fatto. Almeno a me non prendete in giro. Però molti ci cascano, titolone, l'Italia non vende più le armi. Bravi, che governo eccezionale. Non è vero, non è vero. E solo lo faremo. Come quando dicono la nuova manovra non ha tasse, Di Maio ha detto non ci sono tasse. Non è vero, non è vero. C'è l'aumento delle tasse sulla casa del 13%. Vedremo il testo finale. Vedremo il testo finale. Intanto il segretario di Stato Mike Pompeo, quello che è avvenuto in Italia la settimana scorsa, telefona al ministro degli esteri turco Mulvut Kozguglugu. Si chiama così. Risultato? Nessuno per il momento. Tra oggi e domani dovrebbe arrivare ad Ankara il vicepresidente Mike Pence e il calendario ancora prevista alla visita di Erdogan alla Casa Bianca il 13 novembre. Trump, Trump dopo aver creato involontariamente questo o chissà, dopo averlo magari pianificato con Erdogan senza sapere che quello, lo chiamiamo così quello, avrebbe fatto quello che abbiamo visto, allora Trump ha cambiato. E no, adesso sanzioni, dazzi, fermati gli ha detto a Erdogan, fermati, no? Fino a ieri rideva, che ci vada pure Napoleone Bonaparte queste guerre stupide che vanno avanti da 200 anni, diceva, tra il goliardico, il grottesco e lo sprezzante. Ma adesso dice, prevediamo dazzi fino al 50% sull'import di acciaio e il blocco di un accordo comminciale da 100 miliardi di dollari. E per un altro è ancora in discussione. È una grande punizione, come proclama da Trump. La Turchia vende agli Stati Uniti beni per circa 10,3 miliardi di dollari nel 2018. La voce acciaio vale circa 500 milioni di dollari, cioè il 5%, un po' meno dell'export dei tappeti. Poco più di un graffio per Ankara. Stati Uniti ed Europa possono colpire davvero Erdogan, congelando per esempio gli investimenti diretti, specie nel settore automotive e macchine, o tagliando fuori le già traballanti banche di Istanbul dalle transazioni in dollari e in euro. Ma per adesso prevale la cautela e cresce il ruolo di Putin. Quindi, solita Europa che non serve a un bene amato, BIP, non serve a niente questa Europa. A niente, a niente. Non si interpone, non fa, non dice perché, attenzione, l'Europa così come adesso serve solo a tutelare gli affari dell'Europa stessa. L'economia dell'Europa. Quest'Europa è insieme per la moneta e nient'altro. Ma non c'è una politica estera comune, una politica interna, non c'è nulla. È una congregazione di Stati uniti da una moneta. E basta, e basta. Non serve a niente questa Europa. Assolutamente a nulla. A nulla. Grazie per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video. Arrivederci.